Ciao a tutti, in questo video parliamo di un aggiornamento Linux finito male e di come ho fatto per recuperare tutto senza reinstallare. Ma prima di iniziare io sono Luigi, questo è Te Consapevole, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare. Puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina non ti perderai i miei nuovi video. Puoi anche seguirmi su Telegram, a Te Consapevole per quanto riguarda la tecnologia e a Te Consapevole Cripto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono molto i miei video ti consiglio anche di guardare gli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, la situazione non è tanto bella perché appunto quando accadono questi tipi di problemi su Linux, molte persone che magari non sanno bene dove mettere le mani tendono a reinstallare. Fortunatamente Linux è un diciamo ecosistema dove molte persone possono mettere le mani e questa cosa da una parte ci dà la libertà, dall'altra ci dà questo tipo di rischi che a volte accadono. Qui sto parlando di un ambiente desktop in particolare, quindi GNOM, facendo la migrazione da GNOM 3.36 a GNOM 3.38 ho avuto questo problema che è una cosa abbastanza brutta perché obiettivamente senza smanettarci non si riesce a recuperare. Ho ricevuto questo errore che appunto mi diceva, oh qualcosa è andata storta, log out. Quindi obiettivamente dall'interfaccia grafica non c'era molto che si poteva fare. Questo errore può sembrare brutto, in realtà significa che la sessione dell'ambiente desktop GNOM in qualche modo ha crashato e quindi non è che abbiamo perso i dati però non riusciamo più ad accederci. E appunto significa che con l'aggiornamento evidentemente i file di configurazione c'è stato qualche cambiamento e questo cambiamento ha causato questo crash e se uno non sa dove mettere le mani obiettivamente non c'è molto da fare. Questa cosa appunto avevo già provato GNOM.38 su Fedora Live e diciamo tutto bene ed è la classica situazione che gli informatici chiamano di integrazione o che le persone normali fanno l'esempio che l'operazione medica è andata a buon fine ma il paziente è morto. Questo tipo di situazioni accadono non dico troppo spesso su Linux anche perché questa cosa non ha niente a che fare né con la distribuzione Linux e né con altri sistemi. È proprio una questione di integrazione nel senso che ognuno ha fatto la sua parte al meglio però a volte capitano queste cose soprattutto nel caso di GNOM che dalla versione precedente a quella attuale ha fatto diverse modifiche dietro le quinte. Questo tipo di problemi mi sono accaduti su distribuzioni basate su Ubuntu adesso mi trovo su una distribuzione Mangiaro quindi basata su Arch Linux e accadono talvolta sempre questo tipo di problemi. E appunto cosa si può fare in questo tipo di situazioni? Ovviamente Linux è fatto da tante persone ognuno cerca di fare le cose al meglio tuttavia queste cose possono capitare e nel caso in particolare è un problema di abbio di sessione. Quindi se voi avete diciamo due desktop environment attivi per esempio GNOM e KDE potete andare in quello che non si è rotto e andare ad aggiustare l'altro. Nel mio caso Mangiaro ha la possibilità di fare il log tramite l'utente root che è un utente che c'è su Linux ma normalmente non viene utilizzato e tramite quest'utente sono riuscito ad andare in questo percorso quindi all'interno della mia home.config.dconf e semplicemente rinominando questo file user infatti l'ho rinominato in user.brk ottenete sostanzialmente il reset della sessione. Se riuscite a entrare diciamo all'interno del sistema operativo Linux tramite terminale il comando è tutto sommato semplice potete fare move user e poi date un altro nome user.brk nel mio caso e giusto così per non cancellare il file mi sono fatto una copia tuttavia come dire questo tipo di file non vi dà molte possibilità di aggiustamenti perché si tratta appunto di un file binario quindi anche se voi lo aprite non riuscite poi a modificare le cose perché ottenete appunto un qualcosa del genere come vedete non c'è molto da fare. tuttavia non significa che avete perso che ne so i file di configurazione del browser, le password salvate o altre cose se riuscite a fare questa cosa che vi ho fatto vedere adesso poi provate di nuovo a fare il login e a questo punto vi trovate con una sessione diciamo resettata. altre cose più brutali che a volte potrebbero accadere sono quelle per esempio di cancellare totalmente la cartella .config in questo caso perderete anche le password del browser o altre cose particolarmente salvate con questa modifica che vi ho fatto vedere in realtà i danni sono abbastanza minimi nel senso che quello che perdete sostanzialmente è la configurazione della della sessione quindi per esempio l'immagine di sfondo le estensioni che avevate abilitato tra l'altro le estensioni con questa modifica non è che sono perse anche qua ho fatto un video solo sulle estensioni di gnome non sono perse l'unica cosa dovete riattivarle perché appunto andando a resettare la la sessione ottenete appunto un'esperienza gnome standard quindi non avete neanche il tasto per minimizzare le applicazioni che dire questa è la mia soluzione che ho trovato per questo tipo di problemi e una soluzione che ovviamente non è ottimale e magari non è alla portata di tutti però al tempo stesso non è neanche particolarmente complicata tra l'altro non dovete reinstallare le applicazioni ma dovete comunque se avevate delle applicazioni qua pinnate come preferiti anche queste dovete rimettervele però appunto tutte le altre applicazioni che vanno a scrivere all'interno di .config sono rimaste tali quali quindi se avevate dei temi per visual studio code brave o altre cose appunto ve li trovate esattamente come come erano prima che dire questa cosa forse prima o poi verrà risolta con gnome os3 o altre versioni di linux che cercano di fare degli aggiornamenti più atomici e quindi magari gestire meglio la migrazione da diciamo da una versione a un'altra quindi evitare che appaiano questi crash all'utente finale però per adesso questa è una soluzione un po' brutale ma abbastanza semplice da fare e che non procura particolari danni fatemi sapere se anche voi sono capitate degli aggiornamenti del genere su linux normalmente queste cose mi sono accadute sempre su gnome però immagino che delle cose simili potrebbero accadere anche con ambienti desktop più complessi però appunto normalmente utilizzo gnome e queste cose mi sono già accadute altre volte ed è per questo che ho fatto questo tipo di video questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti